Turismo, ambiente, cultura e trasporti. Sono gli obiettivi della presidenza piemontese della Regio Insubrica, comunità transfrontaliera con la Svizzera. Li ha illustrati l'assessore regionale Matteo Marnati, presidente per un anno in settima commissione presieduta da Riccardo Lanzo. La Regio Insubrica è una comunità di lavoro che comprende regioni Piemonte, Lombardia, Cantonticino, enti locali, organismi economici e associazioni, in tutto oltre 80 soci. Ha come obiettivo quello di promuovere la cooperazione transfrontaliera, anche attraverso la definizione di progetti sui fondi europei Interreg. L'assessore Marnati ha proposto la creazione di un brand dei laghi e di una pista ciclabile che colleghi l'intero territorio in Subrico. Ci siamo prefissati un obiettivo importante alla luce del post pandemia di valorizzare questo territorio, la Regione dei Laghi e quindi di andare a finanziare la più grande rete di piste ciclabili d'Europa ma anche proprio collegare tutto il perimetro del Lago Maggiore e quindi di collegare queste tre regioni che sono molto importanti da un punto di vista turistico. Il progetto della pista ciclabile più grande d'Europa soddisfa il presidente della settima commissione Riccardo Lanzo e anche il consigliere del Partito Democratico Domenico Rossi. Sicuramente un'ottima iniziativa per il nostro turismo, per il trasporto sostenibile, che andrebbe a consolidare quella cooperazione trasfrontaliera fondamentale tra Piemonte e Svizzera. È importante perché comincia finalmente a passare il concetto e l'idea che lo sviluppo di un territorio passa anche attraverso progetti che sono compatibili con il rispetto dell'ambiente, come la nuova coscienza ecologica ci impone. I trasporti, a partire dal potenziamento della ferrovia del Sempione, su cui l'anno scorso è stato siglato un accordo italo-svizzero, sono un importante elemento su cui puntare. Intendiamo realizzare un'occasione di confronto tra Piemonte, Liguria, Lombardia e Canton Ticino per sottolineare l'importanza dell'ammodernamento di quest'opera, ha aggiunto Marnati. La Genova a Rotterdam, il corridoio 24, è un ponte tra i due mari e un'infrastruttura logistica che, una volta potenziata, potrebbe avere una ricaduta forte sulle nostre economie. Nel programma della Presidenza piemontese sono anche previsti gli stati generali della cultura e del turismo per discutere progetti comuni ai due settori.